Sabato 27 aprile ti aspetto al Top Cup per una serata di beneficenza il cui ricavato andrà all'associazione volontariato Compagnia delle Stelle. Operante presso Hospice di Reggio Calabria per il sogno di Peter, rete di cure palliative e filiali. Non mancare, basta poco per dare tanto, diamo una mano divertendoci. Ti aspetto, non mancare, contiamo su Peter. Si di now, si di now, si di now, oh yeah.